Buon pomeriggio, ben ritrovati dall'ippodromo del Mediterraneo, convegno di galoppo che oggi ospita la seconda triste della giornata, un handicap discendente abbinata al premio portiere di notte che impegnerà cavalli di tre anni ed oltre sul miglio allungato della pista grande. Di contorno, altre periziate, altre handicap discendente con dotazione di 6.600 euro, ma andiamo con ordine, presentiamo il premio Fano che apre i battenti, due anni subito sulla breve distanza dei 1.100 metri della pista piccola per un handicap discendente che ne raccoglie 5 al via. Partiti. Born in the Mud, la più veloce, tende ad assumere l'iniziativa, quindi valore speciale, poi Drunk Master a seguire Shining Star e Dolce Brigitte. Si va ad affrontare la piegata con Born in the Mud sempre in vantaggio a seguire due di scuderia lungo la corda Shining Star, al suo esterno è il compagno Drunk Master, poi valore speciale e Dolce Brigitte. In tale ordine si entra in addirittura di arrivo con Born in the Mud in vantaggio al suo esterno Drunk Master, poi Shining Star, quindi valore speciale Dolce Brigitte. Cavalli in addirittura con Born in the Mud attaccato da Drunk Master, poi valore speciale a seguire Drunk Master. Siamo ai 150 metri finali con Born in the Mud che prova a reagire all'attacco di Drunk Master che passa, passa Drunk Master, Drunk Master vince su Born in the Mud, poi a seguire, valore speciale. Successo quindi per Drunk Master numero 4 dello schieramento, il figlio di Camacho, per i colori di Sebbian Guerrieri con in sella Salvo Basile, il training di Antonio De Luca riesce a vincere questa prima prova del convegno, quindi a segno Drunk Master numero 4 dello schieramento nei confronti di Born in the Mud, poi al terzo posto e valore speciale. Successo quindi per il portacolore di Sebbian Guerrieri, Salvo Basile in sella. Sean Inquistar è una cavalla che secondo me il duro è andato un po' in testa, perché la mattina è un po' meglio di questo qua, però sul morbido. Oggi la pista è dura e si è prestato quell'altro. Comunque l'importante è che l'abbiamo portata a casa e tutto va bene. Complimenti. Grazie. 6.600 euro, il premio visto si stampi, handicap discendente che chiama i tre anni al confronto sui 1.500 metri della pista piccola. Setter via, partiti. Akilendra e Colchis in avanti a far andatura, quindi Killaki Black, Camden Zack, poi ancora Meili, Alcadomiziano, segue a 4-5 lunghezze, Davis Ruinas. Si completano i primi 300 metri di gara con Akilendra leggero vantaggio nei confronti di Killaki Black, quindi lightweight in vantaggio, il top weight in seconda posizione, Killaki Black. In terza posizione scivola Colchis con i fianchi Alcadomiziano, quindi Camden Zack e Meili a seguire Davis Ruinas. Akilendra guadagna un paio di lunghezze in questa frazione a Killaki Black, quindi in terza posizione si mantiene Alcadomiziano, quarto è Colchis, quindi Camden Zack, Meili e Davis Ruinas. Si fa ingresso addirittura di arrivo con Akilendra in vantaggio, in seconda posizione all'esterno si mantiene Killaki Black che viaggia tutto in mano, poi a largo prova a risalire Meili in anticipo su Camden Zack, quindi Alcadomiziano, cavalli ai 200 finali con Killaki Black che passa a rislancio, passa il top weight Killaki Black, poi per il secondo posto risale Cold Kiss, terzo è Camden Zack. Vince quindi il top weight Killaki Black e Giuseppe Gentilesca a 5,78 la quota, segue a ridosso del battistrada Akilendra e poi ai 200 finali cambia decisementazione il portacolore del signor Santoro allenato da Vincenzo Caruso e montato da Giuseppe Gentilesca riesce quindi ad aggiudicarsi questo handicap sui 1500 metri, a secondo posto è Colchis, numero 3, poi per il terzo rimane in quota Camden Zack, quindi Killaki Black a 5,78 al totalizzatore a segno, numero 1 dello schienamento. Perizia sicuramente importante ma grandi mezzi che oggi conferma Killaki Black. Sì guarda il cavallo ha avuto un periodo non troppo brillantissimo dopo la castrazione e ha fatto un po' fatica a riprendersi, adesso abbiamo provato il paraocchi e abbiamo cambiato un po' troppo distanze ma secondo me questa è la distanza ideale e col paraocchi devo dire che è andato molto bene oggi anche se la categoria non era altissima. Bene. Endicap discendente ancora, questa volta scendono in piste tre anni ed oltre, 1200 metri diventano della pista piccola per un premio Ancona che ne vede 7 al via dopo il forfè del numero 1, il re Tritone. Numero 2 dello schienamento, partiti. Alkerina e Serena d'Arborea subito a lottare per il comando quindi in terza posizione Undermind, poi Madame Baria per linee esterne avanza anche Blastery Sky a seguire Capitas Budelle a Piero. Cavalli prossimi all'imbocco della piegata con Undermind che ora passa in vantaggio nei confronti di Blastery Sky, in terza posizione scivola Serena d'Arborea quindi Alkerina per linee esterne Madame Baria, poi a seguire a Piero e Capitan Sbudella. Cavalli che fanno ingresso e indirittura di arrivo con Undermind che si presenta in vantaggio, nella sua scia si mantiene Blastery Sky, allargo Capitas Budelle e Madame Baria quindi a Piero siamo ai 250 metri finali con Undermind in vantaggio. A centro della pista risale Capitan Sbudella quindi Madame Baria e Blastery Sky a seguire a Piero siamo ai 100 metri finali con Capitan Sbudella che passa in vantaggio nei confronti di Madame Baria e Undermind Capitan Sbudella, Capitan Sbudella segno su Madame Baria, poi al terzo posto conclude Undermind. Vince quindi il favorito Capitan Sbudella numero 5 dello schieramento, cavallo annunciato in progresso e di fatti conferma di essere alla top riuscendo ad aggiudicarsi questo handicap sui 1200 metri, 2.83 la quota in sella Roberto Fontana per i colori della signora Laura Di Stefano, il training del signor Sebastiano Fontana. Al secondo conclude Madame Baria, poi Undermind, completa la terna. Una vittoria attesa questa, sfortunato all'ultimo Capitan Sbudella oggi si riscatta ampiamente. Sì, il cavallo, abbiamo visto che l'altro giorno perde, ma è stato danneggiato in curva, quindi non fa tempo a recuperare. Oggi è andata tutta dritta, i chili erano belli e il cavallo ha dimostrato di vincere. Complimenti. Grazie. Si allunga decisamente la distanza nel premio Macerata, una reclamare che è riservata a cavalli di tre anni ed oltre, affronteranno il doppio chilometro allungato della pista piccola, 2.100 metri. Partiti. Pietro il Grande si porta subito in avanti, al suo esterno si profila Silenzioso, poi Sincotti, ancora Traveller in Time, poi lungo la corda Maigar con i fianchi French Alps, quindi a seguire Silver Mezzusa e Shawar. In questo parziale Pietro il Grande e Silenzioso guadagnano lunghezze nei confronti del gruppo capeggiato da Sincotti, quindi French Alps, quarto, con all'esterno Silver Mezzusa, poi Maigar, ancora Traveller in Time, con all'interno e Shawar. Si va ad affrontare la dirittura opposta con Pietro il Grande che ora si svincola da Silenzioso in questo parziale, guadagna circa 5 lunghezze, al numero 5 appunto silenzioso, poi a seguire a più di 10 lunghezze si mantiene Sincotti in terza posizione, quarto è Silver Mezzusa, quinto è French Alps, poi Maigar a seguire Traveller in Time ed è Shawar. Cavalli che vanno ad affrontare la piegata di pista piccola, non cambia lo schema con Pietro il Grande sempre proiettato in avanti, indiscusso leader, in seconda posizione si mantiene silenzioso a circa 4 lunghezze, poi a seguire Sincotti con all'esterno Silver Mezzusa, quinto è French Alps, quindi e Shawar, Maigar e Traveller in Time. Si entra in dirittura d'arrivo con Silenzioso che si profila all'esterno di Pietro il Grande, i due a fruste alzate, con Silenzioso che ora prova a passare nei confronti di Pietro il Grande che prova a reagire, poi a largo avanzano Silver Mezzusa e French Alps, siamo ai 200 finali, ai 100 metri finali con Silenzioso lungo la corda che prova a svincolarsi di Pietro il Grande, a largo finisce bene anche French Alps, quindi Silenzioso, French Alps, Pietro il Grande nell'ordine, Silenzioso, Salvo Basile riesce ad aggiudicarsi questa reclamare nei confronti di French Alps e Pietro il Grande, French Alps numero 2, Pietro il Grande numero numero 4 dello schieramento, successo quindi per Silenzioso, Salvo Basile, 3,92 la quota, colori della signora Romano, training di Stefano Postiglione, poi French Alps copre del tutto Pietro il Grande per il secondo posto, quarto è Silver Mezzusa numero 6, quindi successo per Silenzioso numero 5 dello schieramento. E siamo giunti alla seconda tris della giornata, il premio portiere di notte, tre anni ed oltre, impegnati sui 1700 metri della pista grande, un handicap discendente che registra la non partenza del numero 1 pivot al Rio, per cui rimangono in 11 al Via. Partiti i protagonisti della seconda tris, scena all'ippodromo del Mediterraneo, all'interno Cupo de Talun, quindi Pizelov, ancora Laguna Drive, De Noble, per linee esterne Playful Dude, quindi Lord Shekin in quinta posizione, a seguire Greybet, quindi con ai fianchi De Noble, Noma Delfia, ancora per la dell'Etna, cavalli dopo i primi 250 metri di gara con Cupo de Talun, affiancata all'esterno della Laguna Drive, all'interno Pizelov, quindi De Dreamer, Playful Dude per linee esterne con a contatto De Noble, quindi Lord Shekin, a seguire One Duke, poi per la dell'Etna, quindi Greybet, cavalli a tre quarti della curva di fondo, con in corda Pizelov, al suo esterno si mantiene Cupo de Talun, a seguire Laguna Drive e De Dreamer, quindi One Duke e Playful Dude, per linee esterne Lord Shekin, quando ora si entra in addirittura di arrivo con Pizelov, che prova ad anticipare Cupo de Talun, quindi De Dreamer, a largo Laguna Drive, ancora Playful Dude, per Varki One Duke, quindi Lord Shekin, siamo ai 250 metri finali con Cupo de Talun e De Dreamer, in lotta serratissima, quindi Playful Dude, Lord Shekin, all'interno Perla dell'Etna e Noma Delfia, siamo ai 100 finali con De Dreamer, attaccata all'interno da Perla dell'Etna, quindi Cupo de Talun, De Dreamer, Cupo de Talun, De Dreamer, mantienela meglio su Perla dell'Etna, poi Cupo de Talun, Lord Shekin, Playful Dude, a seguire Noma Delfia. De Dreamer, la regolare De Dreamer, mantienela meglio nei confronti di Perla dell'Etna e Cupo de Talun, questa è la mia impressione sul traguardo di questa seconda tris, De Dreamer, Marco Monteriso, all'interno Perla dell'Etna, Salvo Basira, a largo Cupo de Talun, Marcello Belli, poi Lord Shekin, Giuseppe Gentilesca al quarto posto, vince quindi De Dreamer. Al completo il team di De Dreamer, Angelo Sortino, allenatore Vincenzo Caruso, complimenti entrambi, ovviamente anche a Marco Monteriso, sulla qualità c'è poco da discutere. Sì, ma io faccio complimenti alla cavalla e a Angelo che l'ha acquistata prima di tutto e poi a un grandissimo Monteriso che ci delizia di queste monte. Angelo, te l'aspettavi questo successo, no? È una cavalla un po' caratteriale, però alla fine Marco Monteriso l'ha saputo condurre in imperfette condizioni, fino al palo. Complimenti. Grazie. E a chiudere il convegno un altro handicap discendente con dotazione di 6.600 euro, 1.900 metri della pista sabbia, distanza e tracciato da affrontare per i 7-3 anni ed oltre raccolti agli ordini dello starter e dopo la non partenza del numero 1 dello schieramento, Yasud. Sta entrando Argen. Partiti. Digo niente, prova ad assumere l'iniziativa. Al suo esterno si profila Jack Vilgo, quindi Argen, Argen ora di slancio dall'esterno assume l'iniziativa nei confronti di Digo niente, Jack Vilgo, poi a seguire Papaveri e Papere, quindi Firun, poi pure Funk e Bourbon Club. Si va ad affrontare la dirittura opposta con Argen in vantaggio, in seconda posizione si mantiene Digo niente, terzo è Jack Vilgo, poi in quarta posizione Firun, quindi Papaveri e Papere, al suo esterno si mantiene Pure Funk con a contatto Bourbon Club. Cavalli che vanno a completare la retta opposta con in vantaggio sempre Argen, Argen in vantaggio, al suo esterno Digo niente, poi Jack Vilgo, quindi Pure Funk, Bourbon Club che muove l'acqua dalla retrovia a seguire Papaveri e Papere. Cavalli che fanno ingresso in addirittura di arrivo, si aprono a ventaglio con a centropista Digo niente, al suo esterno Pure Funk, quindi Bourbon Club a largo dello schieramento per Varchi e Firun, poi Jack Vilgo siamo ai 200 metri finali con Bourbon Club a largo, quindi Firun, Digo niente, Pure Funk, Bourbon Club e Firun in lotta serratissima, Firun e Bourbon Club in lotta serrata fin sul palo e Bourbon Club che riesce a vincere su Firun, poi a seguire Pure Funk. Andiamo a rivedere le battute finali in questa sesta di Siracusa con Bourbon Club e Firun in lotta serratissima fin sul traguardo, Bourbon Club numero 4 all'esterno, all'interno Firun, che si deve accontentare della miglior piazza, successo quindi per Bourbon Club numero 4 dello schieramento nei confronti di Firun. E quindi siamo ancora con Vincenzo Caruso e Cosimo Currenti per parlare di questo successo di Bourbon Club, sicuramente Pure Funk e Firun, cavalli di buona categoria, ma Bourbon Club sta correndo molto bene. Sì, complimenti vanno a Cosimo che ha comprato un bel cavallo e poi ancora una volta a Monterriso e per me ha fatto una monta superlativa, proprio superlativa. The Dreamer quindi risolve la seconda tris, allieva di Vincenzo Caruso, riesce a difendersi dagli attacchi di Perla dell'Etna e Coupe de Talon, che comunque con prestazioni non indifferenti riescono a collocarsi al secondo e al terzo posto del podio. Due handicap discendenti hanno fatto da contorno alla seconda tris e quindi tra i soggetti tre anni impegnati nel premio Visto si stampi emerge sicuramente la qualità di Lucky Black e la forma di Cold Kiss, quindi che nell'ordine si sistemano sul podio e a chiusura ancora Mr. Caruso, protagonista con Bourbon Club, che riesce appunto a imporsi sul favorito Firun e su Pure Funk. E con questo è tutto. E con questo è tutto.